Ciao a tutti, oggi è arrivata una nuova ricetta, questa ricetta è questa di una mia amica, quindi oggi ho già pensato questa ricetta per fare per lei, quindi io faccio vedere come fanno questi piatti, questo tipo di piatti pollo con funghi, sono piatti che sono normali, allora faccio vedere come si fa questi piatti, grazie per tutti, questi piatti pollo con funghi, prima anche mettiamo un po' di burro, una cucchiaio, normale in olio, ora vengiamo una carta niva circa insinata, una cipolla, sono mezzo cipolla, ho già tagliato un piccolo pezzettino, questi sono aglio, due pezzi di aglio, quindi quando è bella pure, molto bella pure, si mette a carta niva circa, e nella te la rivedo, no? Funghi 250 grammi, questo sono mangiato due persone e anche va bene, quindi 250 grammi di funghi, da un po' di un po' mescolare, 5 minuti e poi portatevi a fare 5 minuti di maschione e nele tra i panieri 절iamo la 200g di uomini aggiandiamo tonsillar dall' anticrenca aggiungse aggiungiamo del reasonably dal 20 ml che aggiungiamo Poi aggiungere i peperoni secchi, aggiungere una piccola cucchiaia. Poi aggiungere il sale, aggiungere un cucchiaio, aggiungere il peperoni secchi, aggiungere i peperoni secchi, aggiungere i peperoni secchi. Col全部 lec Poi aggiungere i peperoni secchi, aggiungere i peperoni secchi Mary ... ... ... ... ... ... ... a ... ... ... ... ... cominciamo a mescolare bene questi piatti sono semplici un pollo questo è il vino bianco io sono solo vino bianco quindi va bene ho anche messo un bicchiere di vino bianco questo è il vino bianco non si è divino non si tratta al vino ma non si tratta a questo non si tratta qui si tratta senza il vino non si tratta non si tratta non si tratta no non si tratta un vino Aggiungiamo un po' di acqua e un po' di acqua e un po' di acqua. A presto. Pagli di 5 minuti, a fare 5 minuti, a fare 5 minuti, a fare 5 minuti. Il nostro corso di panna è un'euro di milch creme. Il nostro corso di coconut e milch creme è usato. Il nostro corso di panna è importante. Il nostro corso di panna è un'euro di panna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.